Salve bella gente, qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Let's Guardiamo. Oggi ci troviamo davanti ad un capolavoro assoluto, un gioco che nel 2011 è stato proclamato il miglior gioco per PC in assoluto da PC Gamer. È un action RPG che si chiama Deus Ex, uno dei giochi con una trama mozzafiato che da bambino mi ha incollato per 30 ore di gioco perché questo è un gioco di vecchio stampo quindi è lunghissimo ed è il mio gioco preferito in assoluto. Partiamo con New Game, questo è un Let's Guardiamo perciò non lo giocherò tutto anche perché mi ci vorranno sui 100 episodi per farlo tutto. Metto difficoltà arda, altrimenti con realistica mi trovo difficile a commentare. Noi siamo JC Denton, un personaggio che ricorda un po' quelli forse di Matrix, un po' Neo. Ok, lasciamo anche il nostro nome in codice perché noi possiamo anche chiamarci Gabby, vabbè dai. Mi chiamo Gabby, tanto comunque nel gioco ci chiameremo comunque sempre JC Denton. Noi possiamo già notare la componente RPG del titolo adesso. Abbiamo un paio di skills che possiamo aumentare. Allora per esempio adesso io voglio aumentarmi la pistola di uno. Ecco gli skills points sono andati giù e abbiamo adesso trained. Quindi ora la pistola sarà un po' più efficace, la mira è aumentata. Poi voglio aumentare il computer così posso hackerare qualche computer. E vediamo cos'altro possiamo fare. Il swimming per nuotare un po' meglio. Beh penso che non ho, anzi no, proprio ho finito i punti. Possiamo fare start game. Allora adesso c'è un filmato introduttivo che io non voglio vedere perché è abbastanza lungo. Però come ho già detto la trama è bellissima. Quindi se volete un gioco da 6 euro perché costa veramente pochissimo, costa 6 euro, 30 ore di gioco. Io veramente ve lo consiglio con tutto il cuore questo gioco perché è non per niente stato proclamato miglior gioco per PC. Ovviamente ora è un po' adattato, è un gioco del 2000 quindi possiamo notare con il nostro binocolo che si sta avvicinando nostro fratello. Ok. Nostro fratello ci dà il benvenuto qui. E allora adesso noi siamo qui per un semplice motivo perché i terroristi hanno attaccato la statua della libertà. Noi dobbiamo eliminarli e c'è qualcuno negli alti piani che vuole vedere come noi ci confrontiamo con questa situazione. Adesso noi possiamo già notare che possiamo, abbiamo il sistema di multidialogo e possiamo scegliere tre armi. Allora, nostro fratello preferirebbe che noi usiamo un approccio stealth, un approccio che non uccida il nostro nemico. Perché noi possiamo anche decidere di essere dei terminator e ammazzare tutti, ma io non sono un tipo così. Io preferisco la balestra che mette a tacere i nemici silenziosamente e anche non li uccide, li fa praticamente addormentare. Come questo, questo qua, questo è il pungolo. Anche questo fa addormentare i nostri nemici. Ok, come potete notare è abbastanza, tra virgolette, open world questo gioco perché possiamo andare un po' in giro. Qua ci sono due casse che potrei aprire e prendermi ciò che c'è dentro. Io sto usando anche una mod grafica che aumenta leggermente la grafica del titolo, che si chiama la New Vision, che aumenta un po' la grafica che ci vuole, ovviamente. E quindi non è affatto male rigiocarlo così il titolo, perché la grafica, quella vecchia del 2000, è un po' peggiore. Qua c'è un bot di pattuglia che è nostro amico, per fortuna. Ci arriva una trasmissione dal nostro amico Jackson al quartier generale, che poi ci possiamo anche andare al quartier generale. Adesso qua c'erano dei dardi e altre robe. Ok, e un po' di munizioni per questo charger. Perfetto. Allora, possiamo già notare, adesso siamo già in zona di guerra. Ci sono un paio di terroristi là in fondo, che pattugliano la zona. Un agente dell'UNATCO morto, se premo tasto destro posso prendere il loot che aveva dentro e posso anche portarmi in giro il suo cadavere, se voglio nasconderlo. Per l'agente dell'UNATCO non mi serve, ma per qualche terrorista meglio nascondere i loro cadaveri, altrimenti si danno l'allarme. Ok, adesso qua c'è un'altra cassa che posso prendermi interagendo un po' con l'ambiente circostante. Me l'apro subito, mi prendo una granata a gas che c'era qui dentro. L'unica pecca di questo gioco è... oh, mi hanno sgamato. L'unica pecca di questo gioco è che è sempre di notte, non ci sono robe di giorno. Allora, questo terrorista cerchiamo di metterlo a tacere. Ecco, aiuto, 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 aiuto. Mi stanno sparando, mi hanno visto. Possiamo usare il nostro bot di pattuglia a questo punto. Ok, mi sta aiutando. Mi dispiace, questi qua muoiono. Volevo... non volevo ucciderli, ma mi sa che sono stato costretto. Questo mi ha droppato anche un coltello. Se premiamo I abbiamo il nostro inventario che possiamo anche organizzare come vogliamo. Non possiamo portare armi infinite in giro con noi perché non c'è abbastanza spazio. Questo è tutto lo spazio disponibile. Infatti, armi più pesanti come il piede di porco occupa due slot e un rocket launcher ne occupa anche sei o sette. Ok. Comunque, i terroristi sono morti. Questo qua è diventato incosciente, per fortuna. Perché a volte alcuni colpi di pistola lo feriscono senza ucciderlo e diventa incosciente. Però questo è dead body. Infatti, noi possiamo vedere se uno è morto tramite la scritta dead body oppure incosciente. Cioè, è scritto incosciente. Ok, questo qua però voglio eliminarlo silenziosamente. Quindi, mi metto qui e gli tiriamo un dardo per avvelenarlo. Dobbiamo aspettare che la mira si metti velocemente così, che si richiuda. Adesso lui mi ha visto, mi spara qualche colpo. Adesso io scappo, scappo, scappo. O tanto, lui adesso inizia a star male e si accascia al suolo incosciente. Benissimo. Missione compiuta in questo caso. Mi prendo anche quest'altra cassa e vieni qui. Poi, un'altra cosa peculiare di Deus Ex è che possiamo scegliere molte strade per arrivare al nostro obiettivo. Ora, il nostro obiettivo è quello di andare a trovare il capo delle NFS, che sarebbero i terroristi. Per farlo possiamo entrare dalla porta principale. Abbiamo anche qualche quest secondaria. Praticamente un nostro agente è rimasto intrappolato dentro la statua, l'hanno catturato e possiamo scegliere se liberarlo o no. Adesso io farò veloce perché questo è un Let's Guardiamo, quindi non vi faccio un gameplay lungo, anche perché durerebbe sui 100 episodi fare un gameplay di Deus Ex, quindi cerco di andare veloce. Ok, questa guardia qui invece uso il pungolo. Vado silenziosamente dietro di lei e adesso lo uso. Ok, è bastato un colpo. A volte ce ne vogliono due. Aveva dei dardi tranquillanti. Prendiamo il cadavere. Lo nascondiamo qui in mezzo nell'oscurità. Con gli sconti di stima io sono riuscito a prendermelo a 2 euro e sono felicissimo. Perché questo gioco è stato praticamente la mia infanzia. Con Q posso sporgermi per vedere dietro gli angoli i nemici. Ok? Bene, anche lui è andato a quel paese. Qua c'è una tuta che possiamo usare per sopravvivere al meglio qui. Per esempio potrei usarla qui, ma adesso non la uso. C'è un modo migliore senza sprecare quella tuta che mi protegge un po' da questa elettricità, penso. O comunque da cose radioattive. Adesso noi abbiamo usato questo carrello per andare su. Ma vi mostro un'altra cosa. Se io adesso invece di andare qui sopra e evitare tutto, volessi usare un multitool che è questo aggeggio, posso usare pure quello e l'elettricità si spegne e posso passare. E prendiamo anche degli skill points ogni tanto se facciamo queste cose qui. Fatti ora un po' di skill points che poi possiamo usare per aumentare i poteri del nostro personaggio. Altre casse, biocellule. E qua abbiamo trovato un po' di armor modification. Sono praticamente degli oggetti che possiamo utilizzare per potenziare le nostre armi. Ora voglio potenziarmi la balestra con i dardi tranquillanti. Questo qui aumenta le munizioni. Bene. Ok, qui abbiamo fatto tutto. Ora per andare velocemente a trovare il capo delle NFS, devo uscire qui. E penso che userò il tetto. Allora, noi possiamo anche adesso andare da un barbone. C'è un barbone che ci dà delle informazioni utili, ci fa risparmiare un sacco di lavoro e ci dà dei codici. Ma io adesso non ci vado. Il nostro amico che è praticamente il nostro angelo custode ci dice che stiamo facendo bene a usare questo punto. Perché in questo modo evitiamo un sacco di guardie e siamo già sopra la statua dove poi si trova il capo delle NFS. Benissimo, siamo sopra la statua, cerchiamo di evitare tutte le guardie. Dovrebbe esserci un punto per salire. Allora, questa qua la evito. Io gioco proprio quasi sempre stealth questo gioco, mi piace tantissimo. Più avanti nella storia possiamo anche sfruttare dei condotti da reazione. Anche su questa missione comunque. Due guardie. Facciamo fuori quella. E veramente non vi sembrerà ma una storia bellissima e di complotti. Una delle più belle storie che io abbia mai visto, veramente. Ok, adesso questi qua mi sparano. Cerco di evitare i loro colpi perché non è che abbia molta vita, ok. Stanno male, adesso si accasceranno al suolo entrambi. Posso anche velocizzare le cose. Se avessi un manganello, eccolo qui, ce l'ho. Anche col manganello possiamo metterli incoscienti se vogliamo. Ci vorranno molti colpi, ma questo è altro se non vogliamo usare la forza brutta brutta, quella che uccide. Ok, siamo arrivati quasi alla cima della statua. Gli ultimi due terroristi, mi pare qua ci sono dei terroristi. E vedo che qui c'è una granata a gas. Devo stare attento. Ecco, si stava attivando. Premendo tasto destro l'ho disattivata e possiamo prenderla. Cioè, è incredibile come un gioco del 2000 sia avanti così rispetto a tantissimi altri giochi di oggi. Cioè, questo gioco qui ha un sacco di cose. Possiamo cambiare anche tantissime cose nella trama del gioco tramite i dialoghi. Possiamo anche vedere ben cinque finali diversi. E anche cambiare un po' il corso della storia con qualche nostra scelta. E lei veramente... Oh, questo qua è esploso e mi ha fatto male. Ai 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 ai. E mi hanno anche scoperto, ok. Tempo di usare un medikit. Oh, aiuto. Aiuto. Ok, ma sono comunque riuscito a sopravvivere. Le guardie stanno guardando dal punto sbagliato. No, ora mi hanno forse scoperto. No, per favore. Non scopritemi. E se usassi una granata io? Ma sì, sapete una cosa? Gli tiro una granata e corro. Ok. Sistemate. Adesso dobbiamo solo salire le scale. Un'altra granata. No, l'ho tirata nel punto sbagliato. Vabbè, sapete una cosa? Uso la mia tuta che questa qua dovrebbe aiutarmi a non farmi del male qui dentro. E gli vado dentro con la pistola e gli faccio headshot. Ok, questo l'abbiamo messo ferito. Ok, headshot anche a questo. Avevo detto che avrei agito in modo stealth, ma qui sono stato costretto ad ucciderli perché ormai mi avevano scoperto. Oh, una barretta di cioccolato e un paio di sigarette. Sapete che una volta mi è successo che tipo ho detto, vabbè, fumiamoci una sigaretta e stavo già male di mio perché ero ferito. E dopo, usandola, mi è scesa un po' la vita e sono morto praticamente. Vabbè, e poi è venuta anche una musichina troll quando sono morto, non so, forse mi stava trollando il gioco. Comunque questo è il capo delle NFS. Non sparare, mi arrendo, ok. È troppo tardi, adesso hanno mandato via il vaccino perché qua c'è un vaccino di nome Ambrosia. Vabbè, posso dirgli dimmi meglio su questo coso che avete portato via, se no ti uccido, insomma. Dove lo stai portando, lui vuole dare questo vaccino alle povere persone che stanno morendo. Vabbè, e io lo mando a quel paese ora. Però i terroristi non sono poi così cattivi perché loro vogliono semplicemente dare questi vaccini alla gente perché stanno morendo di una malattia che si chiama la morte grigia. E quella malattia, adesso ci sono truppe dell'UNATCO che sono i miei amici che lo prendono in custodia. Adesso le truppe dell'UNATCO hanno praticamente fatto fuori tutti i terroristi rimasti. Cioè se io avessi voluto adesso fare le missioni secondarie, c'erano un sacco, ma proprio un bordello di terroristi qui intorno. Ma ormai li hanno fatti fuori tutti, vedete, questo qua non lo avevo nemmeno visto, l'hanno fatto fuori comunque le guardie. Quindi missione compiuta, prima di concludere questo let's guardiamo perché ormai siamo giunti alla fine. Ecco qua, per esempio qui c'era un condotto da reazione, posso usare F12, ho una torcia. Potevamo andare qui dentro e fare una sorpresa ai terroristi. Qua c'è un'altra granata e in giro per il gioco troveremo anche questi datacube che ci danno alcune password interessanti. Per esempio qui ecco, c'è uno dei terminali, ok qua era rinchiuso il nostro amico Gunter che purtroppo non ho liberato. Ci sono anche dei giornali ogni tanto che ci danno un aiuto sulla storia. Ecco, qui ci sono dei terminali o possiamo anche trovare dei computer. Qui potremo mettere delle password, ma io siccome mi sono aumentato la skill di computer, ora ho la possibilità anche di hackerarlo. E quindi una volta hackerato abbiamo accesso ad alcune cose. Possiamo spegnere la telecamera, aprire la porta o chiuderla. Adesso questa qua l'abbiamo aperta e in questo caso avremo liberato il nostro amico. Va bene, ora prima di concludere questo episodio andiamo un attimo nel nostro quartier generale. Ok, eccoci qui, siamo davanti, ritroviamo il nostro fratello che ci parla un po', ci dice alcune cose, ma ora non voglio spoilerarvi troppo la storia. Vi mostro un po' com'è il gioco. Ecco, qui siamo dentro, questo è il nostro quartier generale, ci sono i nostri amici, hanno un bel computer, questo qua si stava bevendo una soda. Un'altra cosa che comunque mi piace di Deus Ex è che possiamo anche un po' interagire con l'ambiente. Possiamo per esempio prendere gli oggetti, le lo lancio in testa, ora, aspettate, questo è contro il protocollo agente. Ora gli tiro anche un vaso, le lo metto, dai, abbelliamogli la scrivania, se ci riesco, vai. Niente, non riesco a metterlo su. Vabbè, continuiamo la nostra avventura, ci arriva un messaggio da Alex Jackson che ci dice di andare dal nostro boss che ci vuole parlare per come abbiamo affrontato la situazione. Qua c'è pure uno specchio, mi lavo le mani e mi cura uno di vita a lavarmi le mani, questo sono io. Adesso mi sparo addosso. No, niente, non si può rompere questo specchio. Qui c'è il nostro amico, dobbiamo fare lo scanner della retina. Mi ha riconosciuto e ora siamo dentro la base vera e propria. Ora faccio una cosa veloce. Abbiamo anche un nostro ufficio, questo qua è il nostro ufficio, con il nostro computer che io so già l'username che è jcd e la password è bionicman. Ecco, abbiamo un paio di e-mail da leggere, tutte delle aggiunte alla storia, sono molto interessanti, se masticate un po' l'inglese. Ecco, il problema è questo, il gioco non so se sia anche in italiano, certamente c'è qualche traduzione da scaricare in un modo forse non troppo legale, o comunque da steam, se mettete in italiano perché io uso steam in inglese, forse la mette la traduzione, almeno i sottotitoli. Qui c'è il bagno delle ragazze, che c'è una ragazza dentro che mi manda a quel paese perché la disturbo mentre fa i suoi bisogni, giustamente, mi manda a quel paese. E qua c'è il medico che anche lui ci parlerebbe. E qui ci sono questi computer. Abbiamo trovato un canister prima e possiamo sbloccare nuovi poteri per il nostro personaggio. Adesso mi metto la forza che mi permette di alzare oggetti più pesanti. Questo lo potevo alzare anche prima, comunque ci sono oggetti più pesanti da alzare. Ok, quindi io penso che questo sia tutto per questo video di Deus Ex. Vi ho spiegato un po' le cose più importanti del gioco. Mi sembra di avervi mostrato un po' tutto, vabbè questa è la nostra vita. Possiamo anche decidere se usare un medikit solo in una specifica zona del nostro corpo. Quindi veramente, questo è uno dei migliori giochi che io abbia mai giocato. Vi consiglio di comprarlo perché costa poco. E offre tanto. E vi lascio con una curiosità, vedete? Questa è una zona segretissima del gioco. Non ci si può entrare ora. Vedete che il scanner della retina è al bypass level infinito. Quindi anche se siamo maestri non possiamo sbloccare questo affare. È una zona segreta che nessuno sa cosa sia. O forse la scoprirete comunque andando avanti con il gioco. Quindi spero che questo episodio dei Let's Guardiamo vi sia piaciuto. E io vi do appuntamento al prossimo. Ciao ragazzi! Grazie! Ciao! Grazie a tutti.